A Diva Blondie adesso si mette un costume, si fa un bagnetto in piscina, prende il sole che non c'è, si fa guardare. Io parto così, parto così. Adesso non so se collego con qualcun'altra, però stasera succederà. E ecco il sacchione, va qui. Il mio nome è Leonora, ho 24 anni e vengo da Roma. Sono felice, stasera e innamorata della vita. Mi chiamano Solbiattina. Per via degli occhi. Se voglio che un ragazzo mi venga a parlare, gli lancio due occhiate e sta da me. Due occhiate e sta da me. Posso dirlo? Tutti pensano che è rifatto, ma è naturale, anche il lato B. Sono una ragazza che comunque riscuote molto successo, soprattutto molte attenzioni. A letto mi fa impazzire tutto, qualsiasi cosa. Il sesso per me è il 90% della relazione. Dove è possibile vedere il tuo ex con un'altra? No, è impossibile. Non succederà. Il mio ex con qualcun'altra? No, no, no. Solo con me. Ho paura che esca il mio lato di gelosia folle. Io sono molto possessiva, molto gelosa. Sto cercando di lavorarci. Mi sa che sono la prima. Inauguro io? Sono la padrona, allora. Prindo a me e a questa esperienza. Uh, Colombia! Sono entrata col botto perché mentre ero emozionata nel vedere la casa, giravo. Vabbè, io aspetto qui gli altri. Arriveranno, no? Spero che il prossimo che arrivi sia un ragazzo. Lo accoglierò come si deve, no? Mi chiamo Danilo Scorca, vengo da Bari. Sono un operaio. Ho 29 anni. Che dire? Farò danni a che sono invece. Partiamo dal presupposto che sono acquario. Quindi non sono uno che passerà in osservato. Sono molto libertino, un po' fuori di testa, ribelle. Sono uno che apprende così. Lo servo sulla vita. Mi piace tantissimo il flirt. Non so, un po' giocare con gli sguardi, con le labbra e i movimenti. Non so, il fatto mio, però. Sì. Se penso di ricevere un due di picche, facciamo una scommessa. Io dico di no. Non bevo da troppo tempo, io. Sono a stemio da tre piccoli, cioè non a stemio, è sobrio. L'ho vista a bordo vicino e gli ho detto, ma chi è questa qui? Io sono la reina della casa. Ah sì? Allora io sei a re. Quindi sono andato già. È buona, è una bella ragazza. Lo vediamo. Allora questa esperienza, alla Colombia. Alla Colombia, a noi. Non mi ricordo già il numero. Insomma, quanti anni hai? 29 tu. Sono un po' più piccolina. Eh, si vede. Quanti me ne dai? 22. No, 24, dai. 24, ok. Lo prendo come un complimento, su. Ma devi andare sempre sotto, non puoi andare mai su. Sennò già porti male, no? La scimmietta in testa che batte i piatti, sto capendo, niente. Io sono Valentina, ho 22 anni e faccio la tatuatrice. Io sono molto particolare, sono molto stravagante. Il mio soprannome è Tina la stellina. Tina la stellina. Vivo in un mondo tutto mio, io. Il magico mondo di Valentina è fatto da farfalline, unicorni e sono felice. La mia filosofia di vita è vivere ogni anno. Io, ex on the beach, voglio la f***a e l'alcol e divertirmi come una pazza. Fatemi capire bene, abbiamo messo la caccia ai concorrenti in mano a lei. Andiamo bene. Per fortuna è il suono più temuto della Colombia, il rompe per illuminare la strada e portare un po' di senso logico. È in questa piazza. Ora la domanda è, riuscirà Valentina, detta Tina la stellina, a trovare il tablet del terrore? La vedo malissimo. Oddio, dove potrebbe essere? Avete visto un tablet? Hablo... Spaniano? Pochito. Pochito. This is... Spaniano. Tablet. Tablet? Red. No. E dove sarà? Dove è sto tablet? Dove è andato? Otteni qualche indicazione. Ah, è lei. Hai in te per caso il tablet? Eccolo! Eccolo! E ora? Ciao Valentina, benvenuta a Ex on the Beach. Ci sono altri tre concorrenti sparsi per Cartagena. Cartagena. Si dice Cartagena. Il tuo compito sarà quello di trovarli e portarli in villa. Il primo si chiama Manuel. Aiuto. Io ti aspetto nella piazza accanto alla famosissima opera di Botero. E chi è? Ok, aiuto. Ma secondo me è quella, no? Sarà quella lì l'opera di Botero? Non vedo nessun bel mangio. Chi è il boss, chi è il boss, chi è il boss. Sei tu eri ben guapa del corpo e del cara. Tieni ma flow che sono tia belgara. Tocca tutto il lombio con la banca a Cartagena. Chi è il bò modello che fa la mena? E gli apparece un'attrice. Stiamo con Manuel, l'autore. E gli apparece un'attrice. Ciao. Ciao. Con il tacco mi freghe oggi. Siamo a livello, con il tacco siamo a livello. Sono un pochino più altra in me. Leggermente, leggermente. Come stai? Tutto bene? Madonna che Tamarro che sei. Tamarro, dici dai, no? Tatuaggi. Ti piacciono anche te i tatuaggi però, no? Faccio la tatuatrice. Sì? Sì. Buona sapersi, buona sapersi. Tamarro per i tatuaggi, sì? Sei un personaggio, sì. Sono un personaggio, sono un po' particolare. Sei un po' particolare. Con questo occhietto a mandorla, un po' tatuaggio a mandorla. Che origini hai? Origini colombiane. Davvero? No, scherzo. Sono Manuel, ho 24 anni, vengo da Verona. E rifacciamolo, mi piace. Mi piace. Mi piace. Sono Manuel, ho 24 anni, vengo da Verona. Gli amici mi chiamano Manny e ricomincio. Ciao, sono Manuel, ho 24 anni. Ha tutto? Sì, sì, sì. Perché non andava bene? Non andava bene, non mi è piaciuto. Mi piace curarmi tanto, tanto. A livello del capello, sopracciglia, lampada. Penso che in Italia un baffo del genere fai fatica a vederlo. Sarà questo che fa impazzire le ragazze, non lo so. Sarà questo mio essere. Che è successo? Dove sto? Chi sono? No, io no. Io non ho dormito mai. Uuuuh, arriva qualcun altro. Ecco, sì. Ciao. Ciao. Piacere, Leonora. Matteo. Ciao. Danilo, piacere. Matteo. Dai, portiamo un altro drink, sì. Lui in realtà già l'ha finito, è arrivato dopo di me ma già l'ha finito. È bucata l'ananas. Ah, vabbè, per quello. Non è bucata l'ananas. Già in costume, senza maghi, sono vestito, mi sento un po' a disagio. Ti spogliati dai. Eh, effettivamente. Spiazzato. Molto tatuato. Tra l'altro vabbè, porta un profumo che io amo. Quindi sto già impazzendo. Belle. Tu dove dormi? Non lo so. Tu? Dove dormi te? Eh, Matteo ha tanta roba, Matteo già è mio. Già è mio, ve lo dico. Aspetta, vieni, ti accompagno prima a prendere il telo. Ah, grazie. Perché il telo dobbiamo prendere quello... Sì. Quello grande. Energie positive, molto positive. Appena arrivato, subito una ragazza... Non ti dico come sono entrata. Come sei entrata? Anzi, già mi sono cambiata. Sono entrata, fomentatissima. Oddio, sono la prima di qua e di là, eh? Perché non c'era nessuno. Mentre ero qui, mi si rompe il top... Nuda. Nuda! Avrei voluto esserci, ammetto, eh. Però vabbè, avrò altro... Ma secondo me ci sarà un modo. Ci sarà un modo, dai. Io parto così, parto così. Adesso non so se collego con qualcun'altra, però stasera succederà. Vedi, guarda. Cosa? Guarda che vuoi dire com'è il sapone, va? Male! Cosa? No, volevo dire com'è il sapone, no? Stavo guardando com'era. Vedi? Il top è nuda praticamente. Eh, mi si è rotto, vedi? Questo era attaccato qui e quindi niente. Eri nuda praticamente. Sì, è possibile. Quindi dove dovermi te stasera? Prego il telo. Allora sei un coglionino. Ammetto che ti stavo guardando il c***o, ho pensato al telo, scusa. Vabbè, dai, perdonato. Eh. Perdonato, è comprensibile. Matteo l'hai preso però? Io ce l'ho già lì. Ah, ok. Mi chiamo Matteo, ho 26 anni, vengo da Bologna. Nella vita ho tre grandi passioni. Tattuaggi. Prendermi cura del mio essere a 360 gradi. E la terza, la potete immaginare. Mi piacciono tanto le ragazze. Un vero gentleman non rivela mai quante donne ha avuto. Però diciamo che si possono contare sulle dita di una mano. Se sei un alieno che ha centinaia di dita, sì. Ok. Io entro X on the beach come il king. Come il maschio alfa della villa, certamente. Magari il mio essere così alfa può dar fastidio a qualcun altro, ma a me non mi interessa. Se mi piace una donna e c'è uno che dice, ah, però quella non mi interessa. Se a me piace, a me piace, punto, ci vado. X on the beach per me rappresenta divertimento, lo stato puro, tante donne, provare ad andare a letto con tutte. Adesso non posso dire se me ne farò tutte, ma sicuramente me ne farò tante. Io ci provo con tutte. Sono Alessandra, mi chiamano tutti i blondi. Non so che non si muovano. Ho 24 anni, vengo da Torino e faccio la modella. Mi piace stare in giro, mi piace essere bella. Io adoro essere diva. Beh, coi maschi giocherò tantissimo. Perché fondamentalmente gli uomini ragionano col cervello e col ****. Nel momento in cui un uomo al **** duro, gli puoi far fare qualsiasi cosa, diventa un cane. E poi ciao, grazie. Comunque filosofica anche lei, è rifatta ma filosofica. Esplosione. Lei? A X on the beach io voglio brillare. Io voglio venire qua per fare davvero il circo. Diciamo che il maggior parte di mia ex stesse bruciando davanti a me. Avesse un bicchiere d'acqua in mano, lo berrei. Cuccoli di X on the beach, be ready perché sta arrivando Blandi a mangiarmi. Gnam. Buonasera. Una donna. Ciao. Ciao. Io col tacco qua mi ammazzo. Infatti non so prima di mettere. Grazie a Alessandra. Che figa. Adoro anche tu con le tette grosse. Grazie a Alessandra. Alessandra. Ma sono appena arrivata, sono fresca, voglio capire le sito. Però sono carini, sono simpatici. Lei fighissima. Loro anche cute, ci sanno. Che cute questa scarpina. Vero? Bellissima. Almeno mi sento meno nana vicino a te. Vorrei mettere anche io la platform. Solo che se mi metto la platform sono tipo parla della luce. Metti le lampadine in testa, brillo. Adiva Blondi adesso si mette un costume, si fa un bagnetto in piscina, prende il sole che non c'è, si fa guardare. Fa quello che deve. Sto cercando Bolivar, il destriero. Bolivar. Intiende? No? Bolivar, il destriero. Sto cercando. Non intiende? No problem. No problem. C'era però, no. La pronuncia c'era, quindi secondo me la ragazza era un po' confusa. Oddio, vedo dei capelli biondi, una bella figa. Come fai a non notarla? Impossibile. Bello, vestito rosa, appariscente. Chi sta? Treccia un po' too much, va bene così. Camilla. Ciao. 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 Piacere, Valentina. Che bella che sei. Ciabattina scelta azzeccata, dicevamo. Papa, ma sempre sul pezzo. Facci vedere l'occhietto? Sì. Wow. Io mi piace l'occhietto, cerco sempre un po' lo sguardo profondo. Bravo. Scusami, mi guardo un secondo. Ok, top. Mi chiamo Camilla Natali, ho 25 anni, nata e cresciuta a Firenze. Sono una personal trainer, però sono anche una rapper e un artista. Camilla, solare, dolce, mai tranquilla. A volte mi chiamano camomilla, anche se quando la bevo non sono mai tranquilla. Eccolo, eccolo, eccolo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Allora, leggi tu che sei appena... Ok, adesso devi trovare una famosissima piazza di Cartagena con un oggetto che indica ciò che non puoi fermare. Dovete trovare una cosa? Cos'è? Antonio, vi aspettiamo. Antonio, Antonio, Antonio. Ok, Antonio e i nuovi partecipanti. Perfetto. Andiamo avanti. Non ci faccio trovarlo. Piazza, ok. Cos'è che non puoi fermare? Cos'è che non puoi fermare di solito? A parte me, cos'è che non puoi fermare? Il tempo. Il tempo, il tempo. Il tempo, grande, grande. Mi sta piaciuta Francia. Ok, un orologio, un orologio, un orologio. Abbiamo seguito gli indizi del Super Tablet Red per appunto cercare questa quarta persona che è Antonio. Mamma mia, tu sei forti. Batti. Tina, Tina. Antonio. Eccolo qua. Antonio. Ciao. Piacere, Manuel. Antonio, piacere. Piacere è tutto tuo, comunque. Perfetto, sempre. Piacere, Valentina. Piacere, Camilla. Benvenuto, benvenuto. Io sono Antonio, detto anche pistacchione. Io faccio il personal trainer, nutrizionista sportivo. Sono anche twerkate perché comunque faccio anche lo stripper. Io sono un figo perché, cioè, stai a toccare una roccia. In un discoteco non ci possa andare, tutte le ragazze si avvicinano. Dico, come mai, come mai? Guarda che pistacchione, cioè. Il mio è sì, è un mondo verde pistacchissimo. Cioè, io devo mettere dappertutto. Vedo una cosa e l'associo al pistacchio. In villa mi porterò i pistacchi, il pesto di pistacchio, liquoro al pistacchio. La granella di pistacchio messa alla Nurset. Poi ti lo fai subito il pesto, me lo metto attosso, vedrai. La pistacchina del pistacchione deve essere innanzitutto posata. C'è da venber cu*****o. Perché il panettone classico è buono, però se lo riempiti bene col pistacchio buono, secondo me è più buono. Ecco il pistacchione, sta qui. Il mio è stato fatto spesso nella città all l'initazione del porto. La città è un po' di più di più di bette. Quindi devo puoi parla la città all'imitazione del pistacchio, there, come cavolo a riapposti, a bene ci può dare un po' di più di più di più di altro. L'initazione del pulsare e di più di più di più di più di un passaggio. La città dell'inditazione del pulsare.